Allora, oggi un ulteriore esperimento. Ho preparato un impasto, sempre quello della pizza, però sai ultimamente mi sto dedicando alla focaccia. Stavolta l'ho lasciato, appena fatto l'ho fatto lievitare circa un'ora. Dopo l'ho steso sulla teglia e adesso guardate cosa mi ritrovo, una bella confiattura ancora, bello. Adesso facciamo i nostri buchetti, pieno d'aria, bellissimo. Ecco, non roviniamoli perché sento mente bene. Ci mettiamo il nostro origano, cioè il nostro, sì adesso ci sono pissata un origano, ma in realtà è rosmarino, quello bello fresco, che è spettacolare. Ecco che arriva il nostro tatà, che deve fare anche una sua visita. prego. Adesso gli diamo un po' tò, come anche te. Tanti, vai giocare. C'è un figlio che trovo con rosmarini e una favola. Poi ci mettiamo il nostro filino d'olio, sale grosso, inforniamo. Guardate che bella. Vediamo, vediamo cosa porta fuori, vediamo cosa porta fuori. Ecco qua, come sta crescendo. Diciamo che sembrerebbe niente male. Adesso sono passati esattamente quasi dieci minuti. Voila. Wow. Wow, 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 wow. Croccante in crosta. Uno, due, voilà. Trasferiamo. Voila. Adesso, vediamo subito com'è. Vedete? Allora, la base è bella croc. Mamma mia si pilla, ragazzi. Guardate. Guardate. Più alta. Soffice. Ok. Procediamo. La facciamo con due fette di salamino leggero leggero oggi. Ta-ta. Si bella, ma per bocchia. Non si dovrebbe mangiare subito le cose calde, ne? Guarda qua come tela. Uuuuh. Spettacolo. Buona. 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 Buona.